Allora, approfittiamo di questi due minuti per presentare il relatore di oggi. Immagino che molti di voi conosceranno il professor Mirko Tavoni dell'Università di Pisa. Se non lo conoscete avrete oggi il piacere di sentirlo parlare di sintassi ed educazione linguistica. Mirko Tavoni è autore di una grammatica intitolata L'italiano di oggi per le scuole medie, le scuole superiori di primo grado. Una grammatica, si può dire sfortunata, è una bellissima grammatica, ma per qualche motivo imperscrutabile, per qualche scelta editoriale a noi incomprensibile, è fuori commercio. Quindi io ve la presento, ve la facciamo vedere, la passiamo come abbiamo fatto le volte scorse. Però sappiate che si tratta di un manuale di cui io auspico una nuova introduzione in commercio, ma il collega Tavoni dubita che si possa realizzare questa cosa. Mirko Tavoni vi parlerà di molte altre grammatiche, di queste. Non le faccio vedere, le faccio solo circolare. Sì, le farà circolare. Non specificamente per le scuole, grammatiche di vari tipi, di vari orientamenti, ma appunto ve le farà vedere lui, le farà circolare lui. Il secondo relatore di oggi è il professor Jacopo Fasano dell'Istituto Comprensivo di Camigliano, molto giusto, che terrà il laboratorio che seguirà alla lezione del professor Tavoni. Quindi approfitto ancora di questa brevissima presentazione per ricordare a chiunque volesse l'appuntamento del 16, l'appuntamento conclusivo. Se avete voglia di presentare agli altri colleghi qualche vostra esperienza didattica, abbiamo ancora un po' di posto. Per ora ci sono 5-6 persone che mi hanno detto di voler presentare qualcosa. Se facciamo presentazioni di un quarto d'ora abbiamo tempo anche per altre. Potete scrivermi. Io mi scuso perché fra un'ora devo andare a prendere un treno, quindi non ci sarò nella seconda parte del nostro incontro. Ma appunto potete scrivermi e comunque ci vediamo il 2 di aprile per il nostro prossimo incontro. Lascio la parola a Mirko Tavoni. Grazie. Dunque spero anzitutto che siate stati correttamente informati del titolo di questa conversazione che è sintassi ed educazione linguistica, non testo e scrittura. Se vi aspettate testo e scrittura, questo non è giusto e non è colpa mia se si è creato questo equivoco. Dunque sintassi ed educazione linguistica. Perché ho scelto questo argomento? Perché sono convinto che la riflessione sulle strutture sintattiche abbia un alto valore formativo. sia uno strumento molto efficace che può andare in profondità per sviluppare la mente dei ragazzi. Dunque vi parlerò di sintassi non in una prospettiva disciplinare stretta, anzi magari percepita come angusta, come è generalmente percepita la grammatica. Ma tutto al contrario, come di un esercizio utile a sviluppare l'intelligenza to-cur, nel senso più ampio. Le indicazioni nazionali per il curriculum e i quadri di riferimento in Valsi, li vedremo fra poco, dicono giustamente che la riflessione metalinguistica deve partire dalla grammatica implicita. Questa è una dicitura usata per progressivamente esplicitarla. Questo è molto giusto, ma con ciò le indicazioni nazionali intendono passare dalla grammatica implicita, ovvero dalla competenza nativa, come si dice anche con altra terminologia, alla norma esplicita, la norma standard. Cioè lo scopo ultimo di questo partire dalla grammatica implicita è di arrivare a definire e a far padroneggiare la norma. Quindi è un percorso finalizzato all'insegnamento della norma. Ora, insegnare le norme naturalmente va bene, va benissimo, anzi è necessario farlo con efficacia. Ma io in metto una cosa diversa, più profondamente formativa. Cioè, anzitutto, mediante l'introspezione nella propria competenza nativa, far, nel caso si tratta di parlanti nativi, naturalmente, perché poi invece si dà il caso, tutt'altro che è raro che non siano parlanti nativi, però per semplicità partiamo dal caso che si tratta di ragazzi italofoni fin dalla nascita, che hanno l'italiano come lingua materna. Dunque, l'introspezione nella propria competenza nativa, attraverso questo esercizio, far scoprire ai ragazzi il tesoro intellettuale che possiedono senza esserne consapevoli. Cioè, un sistema pienamente funzionante, iscritto nelle reti neurali della corteccia cerebrale, che permette loro di usare il linguaggio, ed è un sistema straordinariamente sofisticato. Un software, se vogliamo usare questa metafora, eccezionalmente evoluto, che il loro cervello ha miracolosamente sviluppato a partire dai primi mesi di vita e che ora, a 12-14 anni, si trovano in testa perfettamente formato e al tempo stesso ancora estremamente plastico, ancora capace di un fortissimo potenziamento, di fortissime potenzialità di crescita, che l'educazione dovrebbe attualizzare queste potenzialità, invece che lasciarle atrofizzare, evochiamo l'eventualità opposta. Rendere i ragazzi consapevoli di questo tesoro mentale che possiedono semplicemente in quanto parlanti nativi, secondo me dovrebbe sviluppare in loro, anzitutto, parto da una considerazione psicologica, anzitutto una profonda autostima che costituisce una ottima base di partenza per studiare, per volerne capire di più, perché è una cosa intuitivamente di grande valore, intuitivamente, purché li si porti a questa intuizione, che dunque merita molto di essere capita, e poi è una cosa loro, una cosa in un certo senso intima. In secondo luogo, esercizi di autoriflessione specifica su singoli fenomeni, singole strutture, esercizi totalmente induttivi e per via di tentativi di interpretazione, diciamo maieutici, hanno una fortissima potenzialità di affinamento delle loro capacità di introspezione, analisi, ragionamento, eccetera. Quindi lo scopo che vedo io nell'imbocare questa strada è anche di arrivare alla fine a padroneggiare la norma in modo non estrinseco, anzi maturato dall'interno, ma soprattutto e prima di tutto è di sviluppare capacità mentali ad ampio, anzi amplissimo spettro. Capacità mentale che, tornando al punto dell'educazione linguistica, giovano non solo a sviluppare conoscenze grammaticali, ma competenze linguistiche nel senso più ampio. Quindi un ottimo investimento di tempo, di tempo didattico e di energia, anche se lo riguardiamo dal punto di vista delle finalità pratiche, cioè di aiutare i ragazzi attraverso un percorso programmato sull'arco di tre anni, cioè, essendo una cosa così profonda, non dà frutti pratici dall'oggi al domani, ma programmabile sull'arco di tre anni, sì, li può portare anche a ottenere un fine pratico da tutti considerato auspicabile, cioè di aiutarli a superare tutte le prove in valse di italiano, non solo quelle poche domande di grammatica. Che rapporto c'è qui, fra il mio intervento e quello del professor Jacopo Fasano, che sta in ultima fila in attesa di farsi vedere, è un rapporto di relativa autonomia. Io vi parlerò di sintassi ed educazione linguistica, nel senso sopra tratteggiato, con focus primario sulle, diciamo così, idee sintattiche, ma con parallela attenzione all'uso di tecnologie. Vedremo in particolare l'uso di un software semplicissimo, ma abbastanza spettacolare nella sua estrema semplicità, per la visualizzazione grafica delle strutture sintattiche e altri strumenti di tecnologie dell'informazione e della comunicazione per la didattica. Jacopo parlerà di tecnologie didattiche e di strumenti informatici e di comunicazione mediante dal computer applicabili a diversi possibili contenuti, quindi sia contenuti di grammatica tradizionale, sia contenuti di grammatica innovativa, sia un misto fra i due, eccetera, cioè si presta a ogni approccio diciamo linguistico rendendo un ottimo servizio di efficacia, piacevolezza, eccetera. Le tecnologie sono naturalmente un mezzo, credo che Jacopo insisterà su questo concetto e si possono usare per contenuti diversi, fini diversi, eccetera. E la cosa importante è che ogni insegnante scelga i contenuti, i metodi, gli stili che gli sono più propri, potendo comunque ricevere un grande aiuto per l'efficacia del suo lavoro dalle tecnologie. Prima di iniziare a parlare di sintassi, mi sembra opportuno scorrere rapidamente i documenti miur e invalsi su obiettivi valutazione degli obiettivi e prove finali. Non per disperdersi, ma per vedere una cosa specifica funzionale al tema di oggi e cioè per vedere se le proposte di, diciamo così, educazione sintattica che illustrerò hanno cittadinanza o no nel contesto reale delle attività scolastiche condizionate come sono queste attività da questa valutazione finale. e questo dunque lo vedremo molto cursoriamente nei prossimi tre punti. Cominciamo dalle indicazioni nazionali per il curriculo. Temo che non leggiate molto bene, quindi qui pazienza, ascoltate me, le informazioni le veicolerò anche tramite voce. Allora cominciamo dalle competenze al termine del primo ciclo, cioè elementari più medie in lingua italiana le troviamo a pagina 10 e vediamo cosa dicono loro, cosa dicono queste indicazioni. profilo delle competenze lo studente al termine del primo ciclo attraverso eccetera ha consapevolezza delle proprie potenzialità e propri limiti dimostra una padronanza della lingua italiana ecco la frase è questa tale da consentirgli di comprendere enunciati e testi di una certa complessità di esprimere le proprie idee di adottare un registro linguistico appropriato alle diverse situazioni è difficile non essere d'accordo ma il contenuto informativo è vicino a zero ecco va bene qualcosa di un po' più preciso c'è dopo dove si parla di valutazione 13 pagina 13 ecco traguardi per lo sviluppo delle competenze al termine della scuola di primo grado vengono fissati i traguardi e va bene nella scuola di primo ciclo i traguardi costituiscono criteri vabbè qui non si entra obiettivi di apprendimento valutazione eccoci qua la valutazione deve essere fatta certificazione delle competenze andiamo al dunque allora la scuola ecco non dice molto andiamo pagina 28 36 ecco no vedo che siete più di me consapevoli del problema ma lo sono diventato anch'io non ci vuole molto ecco italiano pagina 28 36 andiamo pagina 30 elementi di grammatica esplicita e di riflessione sulla lingua ogni persona fin dall'infanzia possiede una grammatica implicita ecco il passo che ricordavo prima che le permette alla persona di formulare frasi ben formate pur senza conoscere concetti quali quelli di verbo soggetto eccetera questa grammatica implicita si amplia e si rafforza negli anni attraverso l'uso della lingua che permette di giungere a forme corrette in italiano standard e di realizzare enunciati in diverse varietà linguistiche in diverse lingue inoltre sin dai primi anni di scuola e questo è giusto questa prima frase è tutto giusto questo primo paragrafo inoltre sin dai primi anni di scolarità i bambini hanno una naturale predisposizione a riflettere sulla lingua anche questo è vero è su queste attitudini che l'insegnante si può basare per condurre gradualmente l'allievo verso forme di grammatica esplicita ecco insomma sono indicazioni generiche ma giuste traguardi vediamo quali sono i traguardi qui si scende un pochino più nel concreto traguardi sono distribuiti sulle varie abilità per quanto riguarda la grammatica per noi oggi ci concentriamo solo su questo padroneggia è l'ultimo paragrafo padroneggia e applica in situazioni diverse le conoscenze fondamentali relative all'organizzazione logico sintattica della frase semplice alle parti del discorso o categorie lessicali e ai principali connettivi va bene obiettivi di apprendimento terza media saltiamo ascolto e parlato lettura e scrittura andiamo solo a elementi di grammatica esplicita e riflessione sugli usi della lingua è primaria cioè si 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 no scusate è primaria quindi siamo alla fine delle elementari no ma lo sto facendo apposta di vedere gli obiettivi alla fine della primaria alla fine della media al fine del biennio che sono messi in una ragionevole progressione allora alla fine delle elementari confrontare testi per cogliere alcune caratteristiche specifiche riconoscere se una frase è o no completa costituita cioè dagli elementi essenziali soggetto verbo complementi necessari prestare attenzione alla grafia delle parole e va bene elementi di grammatica esplicite riflessione sugli usi della lingua pagina 33 o riconoscere osservazioni sulla formazione delle parole relazioni del significato sull'essico cose molto importanti venendo alle strutture riconoscere la struttura del nucleo della frase semplice la cosiddetta frase minima predicato soggetto altri elementi richiesti dal verbo allora qui stiamo indicando un modello di grammatica che è io direi l'unica novità largamente entrata nei libri di testo insomma della pratica scolastica negli ultimi decenni cioè rispetto alla grammatica tradizionale tradizionale qui c'è un riferimento alla teoria delle valenze al verbo i suoi argomenti cioè al nucleo delle idee di Tessnier poi riconoscere in una frase un testo le parti del discorso e va bene o categorie lessicali riconoscere i principali tratti grammaticali le congiunzioni di uso più frequente quindi qui c'è un accenno alla linguistica testuale all'idea della coesione del testo dei connettivi dei coesivi eccetera e poi sapere l'ortografia va bene andiamo avanti e quindi riconoscere le parti del discorso cioè saper fare quella che tradizionalmente si chiama l'analisi grammaticale e saper fare l'analisi logica della frase semplice con una diciamo piccola riforma delle categorie tradizionali dell'analisi logica che includano l'idea di argomenti del verbo nucleo elementi extranucleari eccetera pagina 34 e seguenti gli obiettivi di apprendimento alla fine della terza media per quanto riguarda la grammatica esplicita ecco tipi testuali varietà eccetera riconoscere le relazioni fra i significati delle parole i meccanismi di formazione delle parole riconoscere l'organizzazione logico-sintattica della frase semplice la struttura e la gerarchia logico-sintattica della frase complessa almeno a un primo grado di subordinazione quindi saper fare l'analisi della frase semplice cosiddetta analisi logica per fare un po' di analisi del periodo ecco proprio questa limitazione almeno un primo grado di subordinazione insomma non ha molto senso però cioè bisogna alla fine di un certo anno di ingegneria edile bisogna saper costruire fino al terzo piano al quarto piano in poi ci vuole la laurea magistrale insomma non ha molto senso ma va bene le parti del discorso quindi siamo sempre all'analisi grammaticale riconoscere i connettivi quindi quel tanto giustamente di linguistica testuale che c'è va bene passiamo alla ai quadri di riferimento invalsi vado rapidamente ambiti grammaticali verificati nelle prove saltiamo a pagina 17 ecco qua ambiti grammaticali verificati nelle prove invalsi ortografia morfologia quindi formazione delle parole lessico e semantica per quanto riguarda la sintassi siamo al punto 5 questo l'accordo tra articoli e nome tra nome e aggettivo e va bene sintagma ecco questa questa è una novità cioè nella grammatica tradizionale non si parla di sintagmi e neanche nella grammatica tradizionale più verbo valenze e argomenti non si parla di sintagmi questa è un'altra componente che viene molto timidamente inserita qui ecco sintagma e poi lo precisa nominale verbale preposizionale frase minima dicendo frase minima torniamo alla grammatica delle valenze semplice o proposizione complessa o periodo frase dichiarative interrogative eccetera elementi della frase semplice soggetto predicato complementi predicativi e altri complementi obbligatori e facoltativi allora dicendo obbligatori e facoltativi siamo nella distinzione tra argomenti e non argomenti in tutto il resto siamo pienamente dentro l'analisi logica tradizionale cioè qui i sintagmi sono spariti perché se uno ragiona in termini di sintagmi non ragiona in termini di sintagmi in questi non esclusivamente diciamo in questi termini gerarchia della frase complessa frase principale coordinate subordinate diverse tipologie chissà cosa significa diverse tipologie e se significa che ce n'è un lungo elenco queste non sono tipologie tipologie fa pensare che qui abbia in mente ma si guarda dal dirlo la tripartizione tra frasi argomentali extranucleari e attributive che è diciamo un riflesso nella sintase del periodo dell'idea del verbo e dei suoi argomenti però è all'uso in modo così implicito che non si saprebbe dire ma insomma per dire che che qui un cenno non sviluppato c'è anche ai sintagmi c'è una componente diversa dalle precedenti vediamo il formato delle domande alle pagine 19 e 20 ecco ecco vediamo qualcuno di questi esempi nel periodo voglio sapere vediamole nella frase questa estate ogni mattina la televisione ha ridato lo stesso film il soggetto è chiede di individuare il soggetto quindi sto parlando a che tipo di modello è presupposto necessariamente per poter rispondere a queste domande qui l'analisi logica tradizionale C3 nel periodo voglio sapere che cosa combini la frase che cosa combini è una frase soggettiva oggettiva esplicita consecutiva eccetera quindi che cosa è presupposto qui è presupposto solo l'analisi del periodo tradizionale ecco per rispondere a questo modo bisogna solo sapere che ci sono le frasi oggettive le frasi interrogative in diretta eccetera non c'è bisogno di sapere che appartengono a una categoria diversa dalle temporali e le causali eccetera nella frase Giovanni correndo in bicicletta su una strada dissestata è caduto perché si è fatto molto male c'è una parola che non va bene questo è un altro esercizio che fa appello mentre quello di prima faceva un appello a delle conoscenze vero necessariamente riflesse di grammatica tradizionale questo fa appello semplicemente la competenza di parlante nativo va bene ecco vediamoci se la frase la più bella spiaggia del mondo secondo me anche secondo i miei amici sono quelle della Sardegna è corretto no? perché c'è un mancato accordo è vero fra il soggetto singolare plurale che questo basta la competenza di parlante per dire che non va bene per dire che queste prove in valsi io le trovo abbastanza sagge cioè fanno per rispondere bisogna avere semplicemente una competenza di parlante nativo un minimo educata all'autoriflessione e come nozioni richiedono solo le nozioni della grammatica tradizionale quindi se uno gli ha fatto solo la grammatica tradizionale li ha preparati se uno gli ha fatto delle cose in più e magari migliori non ha fatto niente che li aiuti a rispondere meglio a questo tipo di domande potrebbe avere introdotto qualche elemento di disturbo che addirittura non gli aiuta ecco va bene però però insomma capisco mi metto dal loro punto di vista non si può adottare un modello linguistico di stato è vero quindi l'unico a cui si può fare riferimento è quello tradizionale questo lo trovo inevitabile ma certo siccome poi queste prove finali condizionano la preparazione che viene fatta per svolgere di certo non danno nessun impulso al rinnovamento teorico eccetera rinnovamento teorico che non è uno sfizio è vero da parari ricercatori cioè faccio cioè vi sembra possibile che nell'insegnamento della biologia scuola media superiore ma anche in quella inferiore non si faccia riferimento al DNA ecco se ci fossero le prove invalsi di biologia che non ci sono ma immaginiamo che ci fossero sarebbe possibile che chi fa i test dice non possiamo fare riferimento al DNA perché non sappiamo se a scuola lo fanno ecco allora il presupposto implicito che ci vedo qui è non possiamo far riferimento a nessun modello linguistico che non sia quello tradizionale che a parte le valenze di Tessnier cioè storicamente risale a 150 anni fa storicamente è così è un po' strano capito che la scuola è conservativa ma ma insomma cioè la grammatica il paradigma della grammatica tradizionale tranne questa a mia conoscenza unica innovazione che sono le valenze e gli argomenti è si è stratificato in una nobilissima tradizione secolare che va da Prisciano agli umanisti a Port Royal alla linguistica illuministica alla grammatica tedesca del secondo ottocento quindi è una storia gloriosissima però cioè dalla fine dell'ottocento a oggi cioè delle cose nuove che potrebbero essere entrate nel senso comune ecco cioè il DNA è tratto nel senso comune di tutti noi biologi non biologi che sappiamo lo sappiamo ecco va bene esame di stato prova nazionale rapidamente vado ma insomma no questo è la salto se no sforerei i tempi ma insomma l'esame delle prove mi porta alle stesse conclusioni c'è qualche timidissimo accenno a modelli teorici di riferimento diversi dal paradigma tradizionale ma non possono andare oltre questo io credo per la sensatissima considerazione che non possiamo richiedere delle cose che nella maggioranza delle scuole non si fanno va bene allora qui passo un po' a parlare del modello teorico che io da non specialista ecco vorrei sottolineare questo ora vi cercherò di promuovere è vero la grammatica di stampo generativista in senso molto lato è vero vorrei precisare che io non sono un linguista generativo sono un semiprofano in questa materia perché io sono uno storico della lingua un linguista di tutt'altra formazione però trovandomi a insegnare necessariamente linguistica italiana la grammatica italiana di oggi per il corso di laurea nel quale insegno e inoltre avendo molta consuetudine negli anni con incontri con insegnanti di questo tipo ho maturato una convinzione che è quella che vi sto esponendo e cioè è che la cosa più giusta da fare didatticamente sia questa e quindi non perché io sia un patito di questa particolare setta è vero di linguisti a cui non appartengo ma perché sono credo equilibratamente convinto che sia la cosa che può giovare di più all'apprendimento linguistico ve la sto proponendo e vorrei dire prima questo concetto preliminare e cioè che la differenza più grossa in termini di risultati formativi non è tra scegliere questo o quel modello teorico di riferimento ma è tra fare grammatica e non farla almeno due terzi degli studenti che si iscrivono non alla facoltà di veterinaria ma alla facoltà di lettere la mia esperienza a occhio almeno due terzi sanno pochissima grammatica tradizionale pochissima grammatica tradizionale allora questo mi induce a dire che la grossa differenza è tra averla fatta la grammatica tradizionale che è obsoleta cioè è una biologia in cui non si intravede neanche il dna quindi sarà obsoleta però tra fare questo e non farla c'è il grosso della differenza perché anche l'analisi logica tradizionale l'analisi grammaticale l'analisi logica l'analisi del periodo in termini tradizionali sono pur sempre esercizi un po' arrugginiti diciamo parecchio difettosi insomma abbastanza almeno abbastanza difettosi ma sono pur sempre degli esercizi di autoriflessione riflessione sulle strutture eccetera eccetera quindi diciamo non farla uno e zero farla grammatica tradizionale è a settanta su cento però ci vorrebbe poco a fare anche il meglio cioè a parlare anche del DNA ecco che non è un argomento in più ma significa rivedere e sostituire ecco non con un gesto di eversione è vero distruggere e sostituire ma con un processo riformistico cioè non è che le nozioni di soggetto predicato complementi eccetera non vadano bene ma possono essere migliorate anche notevolmente ecco però diciamo da zero a settanta poi si può andare a ottanta novanta è vero con relativamente poca fatica di riconversione del proprio modo di ragionare ecco quindi una grammatica di impostazione in senso lato generativista il paradigma certo non unico ma certamente prevalente nel panorama internazionale della linguistica generale da almeno cinquanta anni cioè non dieci cinquanta assunto si intende nei suoi principi fondamentali e non nei tecnicismi della ricerca un paradigma concretizzatosi in Italia in una straordinaria impresa che sicuramente conoscete ma comunque vi vi riporto all'evidenza come la grande grammatica di consultazione di Renzi Salvi Cardinaletti di cui sarebbe il caso che la scuola approfittasse perché come è stato detto all'uscita di quest'opera quest'opera fa dell'italiano la lingua meglio descritta grammaticalmente al mondo cioè più dell'inglese quindi abbiamo questa straordinaria fortuna ci sono questi libroni io metto qui a vostra disposizione se li volete circolare ma questa sono un'opera di consultazione di riferimento sono i linguisti e pochi tra loro se la studiano dall'inizio alla fine ma per dire quanto sapere è stato prodotto in Italia che nelle forme appropriate può benissimo entrare in circolazione in ampia circolazione ecco per familiarizzarsi con questo modello ripeto nei suoi assunti di base cioè per quanto è necessario per usarlo pedagogicamente basta leggere pochi libri e al limite uno solo che è questo che è il riassunto di quei tre volumi che probabilmente conoscerete anche voi è scritto dagli stessi autori quindi è allo stesso livello intellettuale di quello lì è il condensato Giampaolo Salvi Laura Vanelli nuova grammatica italiana ecco e volendo questo aureo libretto di Giorgio Graffi la frase l'analisi logica l'analisi logica cioè esiste un termine più scolastico di questo ecco Giorgio Graffi è uno dei più bravi linguisti generativi in Italia e ha avuto la bellissima idea di fondare presso Carocci questa collanina di librettini così tasca ovvero pocket cento pagine dandogli come titolo l'analisi logica poi c'è le parti del discorso le parti del discorso sono scritte da Giampaolo Salvi cioè un'operazione di grande intelligenza che parte dalle nozioni della grammatica tradizionale trattate da un grande linguista che fa evolvere questi concetti verso una loro versione moderna ecco molto intelligente per cui chi si legga quella grammatica di nuova grammatica italiana eventualmente corredata di questo più il libretto sulle parti del discorso eccetera fa un eccellente corso di aggiornamento e di riconversione che non deve essere totale ma basta che sia mirata parziale ma mirata riconversione dei concetti tradizionali allora per dare un'idea del tipo di riflessione metalinguistica e corrispondentemente del tipo di esercizi che ho in mente per fare quel lavoro che dicevo all'inizio dividerò il mio intervento in due parti uno riflessioni assolutamente libere e non formalizzate che si possono fare con i ragazzi a partire dalla da questa domanda che io trovo sia la domanda di partenza che bisognerebbe fare ai ragazzi per trattare qualunque argomento sempre per via di partire concretamente dalla loro grammatica allora cosa vuol dire partire dalla grammatica implicita qui facciamo un esercizio concreto è puntuale di partire dalla loro grammatica implicita allora la prima domanda da fare per sondare la loro grammatica implicita è di sottoporgli la frase A la frase B la frase C e dire queste frasi ti suonano bene queste frasi funzionano per quello che tu sai come parlante nativo se abbiamo a fare con un parlante nativo pensiamo a fare con un bambino senegalese un bambino cinese eccetera bisogna riconvertire quello che sto dicendo però insomma in un'ora io parlo parlo di questo non posso parlare di tutto ecco e allora cominciamo da questo ecco da questo elenco di frasi questa la la allargo il più possibile ecco spero che allora no bisogna fare un'altra cosa bisogna seleziona tutto e aumento drasticamente il corpo dei caratteri così lo vedete facciamo 20 ecco allora allora io qui mi scuso perché tante cose potranno sembrarvi troppo banali però insomma cercate di seguire il filo del ragionamento allora il falco è un uccello questo uccello è un falco Marco è un ragazzo questo ragazzo è un Marco allora queste quattro frasi vanno tutte bene allora naturalmente la quarta non va bene allora perché non va bene perché non va bene perché il parallelismo fra queste due funziona mentre se ci mettiamo dentro naturalmente il punto è che è un nome proprio però però voi immaginate quindi tutti vedono la grammatica implicita cioè qui li muove con assoluta certezza a dire che la quarta non funziona ma richiesti perché non funziona non lo so voi avete molta più esperienza di me non so quanti lo sanno riescono non possono saperlo perché nessuno glielo ha mai insegnato ma cercando di pescare nella propria grammatica implicita non so quanti riuscirebbero al primo colpo a focalizzare qual è il punto il punto è che è un nome proprio e quindi che differenza è un nome proprio ma poi allora e quindi che cosa c'è di diverso fra un nome proprio e un nome comune per cui fa sì che una frase funzioni con un nome comune e non funzioni con un nome proprio allora la differenza è che il nome proprio indica una categoria di oggetti mentre il nome proprio indica un singolo referente e quindi non può essere preceduto dall'articolo indeterminativo un che per definizione può riferirsi solo a un nome che indichi un individuo appartenente a un insieme quindi questo è un individuo appartenente a ecco per dire che anche la cosa più facile di tutto richiede un percorso mentale che io sono sicuro che i ragazzi non sanno fare ma che trova estremamente istruttivo a che scopo non allo scopo di passare dalla grammatica implicita alla grammatica esplicita nel senso normativo della parola perché qui non c'è nessun pericolo che loro sbaglino cioè che commettano un errore che va contro la norma cioè nessun ragazzo dirà mai la frase questo ragazzo è un marco cioè non è come una frase sbagliata perché ha l'indicativo al posto del congiuntivo dove lì bisogna focalizzare la norma al fine che non facciano degli errori cioè che non producano delle frasi substandard questo pericolo qui non c'è e quindi questo esercizio di esplicitazione della norma esplicita è sommamente gratuito è sommamente gratuito e secondo me è questa la cosa più utile che ha perché li invita e li spinge dolcemente a riflettere su come funziona la loro mente nel momento in cui produce la lingua e nel momento in cui producono e comprendono la lingua questo esercizio di libera e gratuita quindi inutile ecco voglio usare questa parola provocatoria riflessione introspezione linguistica secondo me ha delle potenzialità formative eccezionale e ad ampio raggio quanto latte vuoi si dice sì è una frase che funziona quanto film hai visto quanto film hai visto è dubbio cioè fondamentalmente no però se voglio dire fino a che punto del film sei arrivato allora lo posso dire un paese con molti alberi si può dire un giacimento con molti petroli si può dire nel senso che nessuno lo dice perché è una regola infallibile incorporata nella mente dei parlanti che fa sì che si usino parole come alberi e albero e film con un certo comportamento sintattico e parole come latte e petroglio con un altro comportamento sintattico naturalmente sappiamo che questa è la differenza tra nomi numerabili e nomi massa ma non c'è bisogno che i ragazzi studino questa cosa per arrivare a saperli usare non sbaglieranno mai non sbaglieranno mai perché vuol dire che la differenza tra queste due categorie di nomi è iscritta nella loro competenza che è quanto mai istruttivo per quanto gratuito esplorare lo stesso i fucili dei soldati i coraggi dei soldati oggi c'è il sole va bene oggi c'è un sole non va bene ma oggi c'è un sole velato dalle nubi va di nuovo bene allora se è vero maieuticamente induttivamente si esplorano queste differenze ecco è più naturale dire è arrivata una lettera per te o una lettera per te è arrivata sono possibili tutte e due ma tutti diranno che è più naturale dire è arrivata una lettera per te qui non è non è più è facile ma non è più tanto facile come quelle di prima qui si possono dare due spiegazioni diverse una che ha a che fare con gli articoli definiti o indefiniti e un'altra che ha a che fare con che tipo di verbo è il verbo arrivare ecco quella che ha a che fare con che tipo di verbo è il verbo arrivare di sicuro non l'hanno mai sentita dire riuscirebbe completamente nuova possono ragionare sul valore dell'articolo definito in confronto a quello indefinito e arrivare a dire che l'articolo indefinito per sua natura forse tende a essere usato di più in posizione postverbale perché per una ragione molto precisa ma arrivarci ecco questa invece la prossima è di natura diversa questa è di natura diversa riguarda la morfologia riguarda il fatto che esistono pochi aggettivi che hanno la forma del superlativo assoluto un residuo del superlativo assoluto sintetico latino per cui si dice acerrimo è rimasto questo relitto però posso dire un nemico acerrimo non posso dire un nemico molto acre e invece posso dire un sapore molto acre ma non posso dire un sapore acerrimo insomma è curioso è curioso perché perché chiaramente perché se la parola è usata in senso concreto se l'aggettivo è usato in senso concreto allora appartiene a un registro comune della lingua nel quale non ci sta il superlativo latineggiante il superlativo latineggiante ci sta solo se la parola è usata in forma traslata e quindi appartiene a uno strato superiore della lingua analogamente sto cercando un appartamento più grande sì ma sto cercando un appartamento maggiore no passami una vita più piccola sì passami una vita minore no ma sì serve una vita di diametro minore sempre la stessa vita cioè perché una vita minore non posso dire una vita di diametro minore posso dire perché naturalmente se introduco la parola della geometria una parola scientifica come diametro la cosa si alza e allora anche il comparativo di origine latina anche se non ha certo la connotazione così alta come superlativo acerrimo però pur sempre il fatto di essere di origine latina lo preserva da usi troppo concreti e va bene passiamo rapidamente a un'altra categoria come questa la rondine volò per ore giù funziona sicuramente la postina arrivò per dieci minuti non funziona però l'allenatore partì per due giorni funziona quindi perché arrivò per dieci minuti non funziona tanto partì per due giorni invece funziona non si può dire il bambino nacque per un'ora e mezzo eccetera eccetera allora questi cosa sono sono esercizi sulla compatibilità dei verbi a seconda del tipo di azione con varie espressioni di tempo ecco che se uno glieli vuole spiegare è vero partendo da zero adesso vi spiego che esistono i verbi durativi non durativi telece non telece eccetera gli riversa addosso delle nozioni ma se è vero avendo l'insegnante in testa queste nozioni e non spiattellandole li invita a fare questo esercizio secondo me gli cava da dentro delle cose molto utili soprattutto molto utili per il percorso attraverso il quale e va bene sono tanti altri tanti altri tanti altri esempi questo però su questo mi ci soffermo perché quanti film hai visto ne ho visti molti quanti mesi sono passati ne sono passati molti quanti turisti hanno passeggiato sotto la torre ne hanno passeggiato molti perché la terza la prima sì la seconda sì la terza no eh 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 il ne funziona è compatibile con le prime due ma non con la terza capito ma perché eh anche nella terza quanti turisti molti turisti hanno passeggiato e che differenza c'è è sempre il ne partitivo cioè in tutti i casi ne hanno più il verbo molti vuol dire molti di quei di essi hanno fatto questa cosa sì eh allora quanti mesi sono passati sono passati molti mesi quanti turisti hanno passeggiato molti turisti hanno passeggiato si può dire perché non si può pronominalizzare con ne non è evidente perché non lo si possa fare esempio parallelo questo col participio assoluto visto il film tornarono a casa giusto passato il temporale tornarono a casa passeggiato sotto la torre tornarono a casa no quindi sono gli stessi tre verbi di prima i primi due sono compatibili con il partitivo e sono compatibili con il participio assoluto e il terzo né con l'uno né con l'altro perché allora è questo non lo sappiamo diciamo che al momento dobbiamo concludere che non lo sappiamo è vero ma nessuno di noi direbbe la terza frase di nessuno nessuno di noi mai mai e nessun ragazzo i ragazzi sbaglieranno il congiuntivo diranno io speriamo che me la cavo ma non sbaglieranno mai una frase così ecco questo mi fermo qui con gli esempi ma allora la risposta è perché esiste esiste un tipo di verbi che ha questo comportamento esiste un tipo di verbi che non è mai menzionato nella grammatica tradizionale che ha questo diverso comportamento è una cosa insomma interessante no? allora da tutti questi vari esempi credo che possiamo enucleare che cosa significa aggrammaticale che cosa significa grammaticale aggrammaticale allora una frase abbiamo visto tante frasi grammaticali e abbiamo visto mescolate delle altre frasi che sono aggrammaticali che non vuol dire che sono sgrammaticate cioè che sono al di sotto della norma vuol dire che sono non substandard non scorrette non inferiori alla norma non rispondenti alla norma ma sono cognitivamente sbagliate cioè non sono normativamente sbagliate sono cognitivamente sbagliate perché confliggono con le regole di funzionamento del linguaggio che costituiscono la nostra grammatica implicita grammatica implicita è una cosa estremamente concreta e funzionante che si può andare a assaggiare per cui vediamo che la nostra grammatica implicita ci dà infallibilmente delle risposte di cui non sappiamo rendere ragione ecco quello che volevo dirvi è questo cioè portare i ragazzi a questa consapevolezza secondo me è una cosa da cui scatta moltissime potenzialità di crescita intellettuale nel campo della riflessione sul linguaggio ma un pochino anche in generale di riflessione sulla mente va bene sono stato troppo lungo per cui faccio ecco faccio 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 un'altra cosa allora questi se siamo arrivati induttivamente a questo punto è vero siamo arrivati al punto in cui per dargli la spiegazione bisognerebbe parlare di aspetto verbale alcuni esempi che ho saltato ricordavano l'aspetto verbale in altri casi bisogna parlare di azione verbale tipo di azione verbale che sono cose dell'aspetto un pochino se ne parla ma poco l'azione verbale in genere non se ne parla affatto capisco che non se ne parli nelle grammatiche perché le grammatiche sono finalizzate alla norma cioè non trattano l'intero funzionamento della lingua trattano solo quelle limitate parti della lingua dove ci sono dei dubbi normativi quindi si focalizzano se si deve usare l'indicativo o si deve usare il congiuntivo perché la norma in certi casi prescrive il congiuntivo mentre la lingua parlata tende a usare l'indicativo cioè la grammatica tradizionale è nel suo impianto normativa cioè non vuole fare un esercizio diciamo così gratuito ma educativo di rendere consapevoli i ragazzi di come funziona il linguaggio nella loro mente ma vuole solo focalizzarsi normativamente per insegnarli dall'esterno dove i punti critici dove rischiano di sbagliare e dove è bene che non sbaglino ecco la grammatica non nel senso normativo ma nel senso cognitivo che ho cercato di comunicarvi secondo me ha un interesse enormemente maggiore una potenzialità formativa proprio formativa enormemente maggiore e alla fine è anche la più efficace per fargli sviluppare una competenza esplicita raffinata che li porterà a non commettere errori di stampo normativo ma non questo braccio di ferro diretto per cui tu vuoi sbagliare su questo punto io ti insegno come non sbagliare su questo punto tutto estrinseco ma per una via interna di potenziamento della propria competenza nativa ciò detto ecco e concludo qui perché la seconda metà delle cose che volevo dire non ho tempo di dirla però voglio concludere su questo alcuni concetti linguistici che secondo me non dovrebbero mancare in una educazione linguistica che abbia anche l'ambizione e il taglio che sto cercando di comunicare e poi sulla colonna di destra questi concetti linguistici che non appartengono alla grammatica tradizionale e che secondo me dovrebbero esserci perché sono illustrano delle forze fondamentali nel funzionamento del linguaggio quindi se vogliamo spiegare come funziona il corpo umano le cose fondamentali per capire come funziona il corpo umano bisogna darlele se vogliamo fargli capire come funziona il linguaggio i concetti fondamentali su come funziona il linguaggio anche nel caso che non siano direttamente utili a correggere la norma bisogna darglieli una volta che questi concetti linguistici gli siano dati che cosa quali modifiche comportano nel nostro normale modo di insegnare l'analisi grammaticale l'analisi logica e l'analisi del periodo allora molto schematicamente e per finire uno non dovrebbe mancare il concetto di deissi cioè quel fondamentale meccanismo linguistico per cui un elemento presente nel discorso per essere spiegato non rimanda a un altro elemento presente nel discorso ma alla situazione comunicativa all'interno della quale avviene la comunicazione questa è una forza linguistica talmente fondamentale che è assurdo ignorarla quali conseguenze provoca sull'apparato di nozioni che noi abitualmente diamo quello di cambiare o meglio di introdurre veramente il concetto di persona grammaticale che vi assicuro gli studenti universitari al primo anno dopo aver studiato il manuale di Salvi Ivanelli fanno fatica a focalizzare perché è talmente in primissimo piano che è come la lettera rubata cioè non lo vedono cioè alla domanda che cosa significa la parola io pochissimi sanno rispondere pochissimi sanno rispondere quasi tutti dicono è il soggetto risposta assurda ma non vogliono dire il soggetto nel senso filosofico che sarebbe giusta vogliono dire è il soggetto della frase cioè una cosa completamente insensata ecco cioè che cosa significano io e tu non lo sanno dire sarà importante è una nozione importante ecco poi comporta delle modifiche sull'idea di cosa sono i pronomi per cui la definizione etimologica e propria della tradizione grammaticale da parisciano in giù che i pronomi sostituiscono i nomi non sta in piedi da nessun punto di vista io e tu certamente non sostituiscono dei nomi eccetera eccetera e poi la temporalità dei verbi ora questo non è che sia un concetto assente il presente è presente perché è vero questo c'è però si potrebbe fare un po' di meglio cioè per analizzare la temporalità di una porzione di testo è vero segnando le azioni sulla linea del tempo e quindi potendo esplicitare fino in fondo che c'è un ancoraggio al momento dell'enunciazione allora tutte le azioni si vede tutte le azioni espresse da tempi verbali si vede che deitticamente si pongono o prima o dopo il momento dell'enunciazione ma anche che oltre a questa temporalità di tipo deittico c'è una temporalità di tipo anaforico cataforico data dall'uso di tutti i tempi trapassati o futuro anteriore eccetera queste cose ci sono nella grammatica tradizionale però diciamo incentrate su un discorso esplicito centrato sulla Deissi funzionerebbero molto meglio una cosa che mi viene in mente è come spiegare il discorso indiretto ecco cosa cambia passando dal discorso diretto al discorso indiretto io ho memoria di grammatiche che fanno delle assurde casistiche il passato remoto diventa assurde insensate casistiche cioè la cosa da dire è che nel passaggio dal discorso diretto al discorso indiretto cambia il sistema di riferimento deittico nel discorso diretto il sistema di riferimento deittico è di chi dice quelle parole nel discorso indiretto il discorso il sistema di riferimento deittico è di chi riporta quelle parole basta dire così e tutte le cose farraginosamente descritte in dettagli che fanno acqua da tutte le parti diventano chiare questo per dire che con il ragionevole ragionevole investimento di tempo sarebbe di autoformazione eccetera sarebbe possibile sostituire il diciamo l'insieme di concetti tradizionali con un nuovo insieme di concetti che non è completamente diverso ma che è in parte diverso per cui non si possono sommare è vero ma l'operazione giusta sarebbe di sostituire allora per far questo non ci vuole una competenza fuori del comune né un tempo fuori del comune ma sarebbe una operazione molto fruttuosa altre cose che non dovrebbero mancare sono l'aspetto verbale l'azione verbale e qui ho aggiunto sarebbe bene anche che fosse presente l'idea che non ci sono due categorie di verbi transitivi e intransitivi ma che ce n'è una terza a cui viene dato questo nome tecnico di inaccusativi ma lasciamo perdere la terminologia è questa la spiegazione del neipartitivo e del participio assoluto che esistono verbi che appartengono a una terza categoria che ha dei comportamenti sintattici diversi per una ragione molto elegante molto elegante che se la si capisce fa piacere averla capita e cioè la causa strutturale è che il soggetto di questi verbi non sta al di fuori del sintagma verbale come in tutti gli altri come sia nei verbi transitivi sia nei verbi intransitivi sta fuori invece in questi verbi sta dentro e sta nella stessa posizione profonda del complemento oggetto questa non serve non ha una utilità pratica immediata sapere questa cosa ma abbiamo trovato la risposta alle cose di prima ecco se introduciamo poi la seconda parte delle cose che avrei voluto dire sarebbe stato fare l'analisi sintattica fondata sui sintagmi e non sugli elementi più piccoli quali il soggetto comunemente inteso il predicato verbale comunemente inteso eccetera questo è impossibile esemplificarlo qui per mancanza di tempo ma l'analisi sintattica deve essere fatta per sintagme perché fatta nell'altro modo qui mi dispiace di non poterlo esemplificare funziona male mentre fatta così funziona bene basta studiare questo capitolo due giorni ecco proprio per non avendo il tempo pieno proprio a disposizione volendo assimilarlo bene basta studiare due giorni cioè il tipo di investimento necessario sarebbe questo ma dopo l'analisi sia l'analisi della frase semplice sia l'analisi della frase complessa funzionano molto meglio funzionano molto meglio e corrispondono così torno al filo rosso corrispondono molto meglio alla percezione intuitiva di quali sono i pezzi che compongono la frase corrisponde molto meglio alla percezione il che è un riflesso del fatto che è giusta ecco quindi non mi posso diffondere su quali cambiamenti introdurre la pratica dell'analisi per sintagma comporta ma riguardano come vedete un po' tutto ecco investono un po' tutto poi gli argomenti del verbo che sono una cosa che come abbiamo detto è entrata abbastanza e che ha fatto dove è entrata ha cambiato l'analisi logica perché si parla di nucleo della frase frase minima vero nucleo elementi extranucleari quindi diciamo questo cambiamento lo possiamo considerare già avvenuto se lo stesso identico concetto lo facciamo agire anche nella sintassi del periodo otteniamo un'altra bella semplificazione perché invece di avere una lista piatta di proposizioni subordinate abbiamo evidenziato che ci sono tre macro categorie di proposizioni subordinate che sono le argomentali cioè le soggettive oggettive interrogative indirette che hanno la funzione di argomento del verbo della principale e quindi non possono mancare tutte le altre sono extranucleari e poi ce n'è un terzo tipo che sono le attributive che sono una cosa diversa perché non si attaccano al verbo ma si attaccano a un elemento nominale della frase va bene poi qui finisco veramente un'altra cosa che sarebbe molto formativa dargli è la distinzione fra i ruoli sintattici e i ruoli semantici questo è chiaramente un punto che manifesta la sua criticità sempre per cui il soggetto è chi compie l'azione ma compie l'azione cioè se dico che 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 discendo da una famiglia modesta che azione compio è vero cioè se dico mi piace mi piace qualcosa che azione compio eccetera allora tutto questo è si può semplicemente semplicemente distinguere una volta per tutte dicendo che una cosa sono i ruoli sintattici che danno luogo alla struttura sintattica della frase un'altra cosa sono i ruoli semantici che indicano chi veramente compie un'azione chi sperimenta una sensazione chi è oggetto di un'azione compiuta dall'altra eccetera eccetera e vedere che non si identificano i ruoli sintattici e i ruoli semantici per cui il soggetto è quello che comanda sempre il verbo ma non per questo è sempre quello che compie un'azione eccetera eccetera anche questo e infine le nozioni di tema e rema queste cioè la parte nota anche queste anche queste in qualche modo circolano me lo direte voi meglio quanto circolano però se fossero diciamo focalizzate un po' di più aiuterebbero a capire come funziona la lingua ecco a capire come funziona la lingua spero di avervi dato l'idea che sostituire un apparato di nozioni più aggiornato più aggiornato e quindi più vero in parole povere più vero cioè che corrisponde che descrive meglio l'oggetto di cui parliamo a uno che insomma ha parecchie crepe e rughe porterebbe vantaggio porterebbe vantaggio cioè dal punto di vista degli studenti che si devono comunque sciroppare una cosa o l'altra sciropparsi la seconda sarebbe molto meglio ecco sarebbe molto meglio e sarebbe più intuitivo più convincente ecco ecco solo questo mi dispiace di aver parlato più del previsto e di aver detto due terzi delle cose che volevo dire ma pazienza facciamo una pausa mi dicono che l'abitudine è vera è di fare c'è rinfresco nel corridoio a canzone di lezione penso che molti lo conoscono ho fatto venire in mente il mio primo giorno di lezione alla scuola media sono entrato senza avere nessuna esperienza di preruolo proprio niente di niente mi hanno mandato in una prima il preside era probabilmente un po' avventato da questo punto di vista di solito il principiante non lo si mette in prima e sono entrato e ho parlato della Deissi pronominale e l'effetto l'effetto è stato che il giorno dopo c'era la coda di genitori preoccupati dal preside a chiedere chi è quel matto che pretende perché poi è uno degli aspetti del nostro lavoro è proprio questo cioè che al di là delle questioni di merito di che cosa insegniamo c'è anche un problema di relazione molto grosso di relazione con i ragazzi e di relazione con le famiglie e questo secondo me è un aspetto che condiziona in parte il nostro lavoro e secondo me funziona anche un pochino da freno al nostro lavoro a me veniva in mente insomma è un po' di tempo mi è capitato di pensare ascoltando la radio dibattiti sulle riforme varie della scuola che si sono susseguite e colpiva la quantità di persone che intervenivano nel merito senza avere la più pallida idea di che cosa sia la scuola e il fenomeno più simile che mi è capitato di osservare è quello per cui tutti parlano della nazionale di calcio cioè l'Italia è un paese di 60 milioni di commissari tecnici della nazionale l'Italia è un paese di 60 milioni di persone esperte di didattica di scuola sanno tutti che cosa dobbiamo fare il che significa che tutti considerano la propria esperienza scolastica come estremamente significativa di che cosa deve essere la scuola e in parte è anche un pochino un vizio che io riscontro in me stesso cioè certamente io vado col pensiero all'esempio di insegnanti che considero estremamente validi che ci sono stati nel mio passato e un pochino mi ci ispiro e parto da questa premessa perché oggi vorrei cercare di parlare di come invece secondo me purtroppo poi spiego perché purtroppo un po' la scuola deve cambiare la scuola sta cambiando ma sta cambiando più lentamente di come dovrebbe ed è un discorso che nasce da una riflessione su che cosa viene offerto alla didattica dalla disponibilità di tecnologie dell'informazione e della comunicazione e come queste devono o possono essere utilizzate in modo efficace allora io partirei facendovi vedere un filmato mi scuso probabilmente qualcuno di voi lo conosce perché è uno dei filmati più cliccati su Youtube però mi sembra che per quanto tutto da verificare dal punto di vista dell'attendibilità delle statistiche che propone in realtà fa riferimento in modo abbastanza convincente a dati che intuitivamente conosciamo tutti quanti descrive un mondo che è un pochino il mondo con il quale abbiamo a che fare di questo filmato ne esistono aggiornamenti annuali c'è la versione 2014 c'è la versione 2013 io sono andato un pochino indietro nel tempo e ho preso credo la prima versione mi sembra sia 2009 o 2010 e l'effetto che fa a me è che già rispetto al 2009 la scuola di oggi è un pochino fuori dal tempo e il problema di adeguarci c'è e ne dobbiamo tenere conto ecco ci dovrebbe essere un audio ma non c'è ma insomma il filmato è in inglese ma spero che si capisca eccoci Grazie. MySpace, per storia. Le bermuda battono tutti dal punto di vista della disponibilità della rete. Il Giappone è il ventiduesimo, a noi ve lo lascio immaginare. Ecco, queste sono le cose. Qui è proprio il gusto americano per quantificare tutto quanto, però insomma, 31 miliardi di ricerche su Google al mese. Quattro anni prima, 2,7 miliardi. E prima? La risposta per me è che prima non si facevano le domande, non è che ci fossero... Ogni giorno più messaggi che esseri umani, anche questo è intuitivo, no? La radio ci ha messo 38 anni per arrivare a 50 milioni di utenti, la TV 13, Internet 4. Facebook 2. Nel 1984, mille dispositivi connessi a Internet, adesso sporriamo nettamente il miliardo, probabilmente ci avviciniamo ai due, questo è un dato del 2008. Qui l'italiano ovviamente è più conservativo. In New York Times, in una settimana, ha più informazioni di quanto nel XVIII secolo una persona avesse in tutta la vita. Quest'anno 4 esabyte di informazioni più che nei 5.000 anni precedenti. E questa è la cosa che a me colpisce di più, perché credo che sia profondamente vera, chi si iscrive a un istituto tecnico studia il primo anno delle cose, che al terzo anno sono già vecchie. I giapponesi che sono avanti a tutti stanno testando una linea, probabilmente adesso esiste, che è capace di fare 210 milioni di telefonate al secondo, e si va avanti così. Entro il 2013, cioè l'anno scorso, nel 2049, un computer da mille euro, mille dollari, insomma un po' meno, sarà più potente di tutti i cervelli umani messi insieme. Ora, queste, appunto, ribadisco, sono il gusto americano per i numeri, la nostra cultura è un pochino diversa, restiamo tutti un pochino perplessi di fronte a cose del genere, però... ecco... E la domanda finale è che cosa significa? Ecco, io non ho intenzione di provare a rispondere che cosa significa, per due motivi. Prima, perché non lo so che cosa significa, non ho la pretesa di avere una visione di insieme della vita, del mondo, figuriamoci se poi ho la pretesa di venire a parlare qui. Secondo, perché secondo me, dal punto di vista nostro, di insegnanti, non è questo il problema, è il problema di capire che il mondo sta andando in questa direzione. Io, personalmente, non l'amo più di tanto questa direzione, uso moltissimo i computer, ma non amo per niente i computer, se posso farne a meno, ne faccio molto volentieri a meno, provo a leggere, leggo anche su dispositivi elettronici, ma sinceramente la carta è un'altra cosa, e io resto convinto che sia un'altra cosa, ritengo di essere una persona di 40 anni, un pochino di più, con la cultura e la formazione, è una persona che è cresciuta in un'epoca in cui i computer non c'erano, io il primo computer l'ho avuto, il Commodore 64 a 16 anni, ma quello era un giochino, poi il primo computer serio l'ho avuto, credo, all'epoca dell'esame di maturità. E questa è la mia esperienza. Il problema è che l'esperienza dei ragazzi con cui abbiamo a che fare non è questa. E qui c'è l'elemento su cui dobbiamo riflettere. Non ci piace, facciamo molta fatica ad accettare questo salto generazionale, mi ci metto dentro, ci sono molti aspetti della vita dei ragazzi sui quali tra colleghi ironizziamo quotidianamente, facciamo l'imitazione del bimbo a un po' rimbambito al telefonino che ci passano le ore, scherziamo sul fatto, scherziamo anche preoccupati, secondo me giustamente preoccupati, sul fatto che stanno rinunciando ad avere cose nella mente perché tanto si può depositare tutto sul supporto informatico. Però questa è la direzione che la loro vita sta prendendo, è il mondo in cui vivono e secondo me se vogliamo fare una scuola che funzioni, non possiamo fare una scuola che sia in contrapposizione, ma dobbiamo cercare di fare una scuola che sia calata dentro questo mondo e che cerchi poi ovviamente di trasmettere il sapere che è utile a fargli essere protagonisti consapevoli di questo mondo e non semplicemente utenti passivi perché quello che rischiano secondo me è questa evoluzione qui. Allora la prima cosa che mi sembra interessante valutare è che uno dei grandi cambiamenti è che oggi la tecnologia è una tecnologia effettivamente distribuita, tutti l'abbiamo a disposizione, io penso che sia esperienza comune, che quasi tutti i nostri ragazzi già alla scuola media hanno lo smartphone, l'accesso diretto a internet, cose che un pochino mi scandalizzano. Spero di avere la forza di non regalare ai miei figli uno smartphone troppo presto, ma poi ci credo fino a un certo punto, spero anche di avere la forza di non regalargli un motorino, mio padre sperava e non ci ha riuscito, quindi penso che anch'io non ci riuscirò. Però l'aspetto positivo di questa tecnologia distribuita è che oggi esiste anche una creatività distribuita, cioè per esempio sono molti i film prodotti a bassissimo costo, perché oggi per produrre un film basta una telecamerina che può costare una cinquantina di euro, un computer a basso costo e su internet si trova tutto il necessario per fare un prodotto che non è un prodotto artigianale, ma un prodotto anche da un punto di vista professionale, completo, con gli effetti speciali che deve avere, con tutto quanto. Questa possibilità che la tecnologia offre di una creatività distribuita, secondo me è l'aspetto su cui dobbiamo puntare maggiormente. Quando parliamo di utilizzo delle nuove tecnologie è proprio questo il punto a nostro favore. Vi faccio vedere, no non ve lo faccio vedere perché non c'è l'audio, questo era un video sempre in inglese con una serie di citazioni, secondo me abbastanza interessanti, una che per me è molto vera, ma mi dà fastidio, non ce l'ho messa, ed è il fatto che l'aula scolastica è un'invenzione della seconda rivoluzione industriale, che se uno ci pensa un dottore di 70 anni fa in una sala operatoria di oggi non ci potrebbe stare, un insegnante di 70 anni fa in una aula scolastica di oggi ci potrebbe anche stare. Io insegno in una scuola che da questo punto di vista è privilegiatissima perché abbiamo la LIM in tutte le aule, quindi magari l'insegnante farebbe qualche fatica, però è una delle poche scuole che ha la LIM in tutte le aule, credo, almeno per quello che so io, la situazione più frequente è che su 12 classi, tre hanno la LIM e non c'è nemmeno tutta questa corsa da parte degli insegnanti a poterla utilizzare perché poi comporta qualche sforzo di elaborazione. Le altre invece sono, secondo me anche queste, abbastanza vere, se non usi le nuove tecnologie perdi rilevanza. Questo è un problema reale, cioè perdiamo autorevolezza agli occhi di ragazzi che ci vivono immersi e perdiamo autorevolezza non solo dal punto di vista del nostro sapere tecnologico, ma in generale, cioè si lede un pochino la figura della persona deputata a trasmettere conoscenza, perché le conoscenze si vede subito che non ce le ha. Seconda citazione è dobbiamo esistere nello spazio in cui esistono gli studenti, quindi fare uno sforzo di comprensione della loro cultura che magari non è esattamente una cultura, non è esattamente quello che intendiamo noi per cultura, però è il mondo all'interno del quale vivono. Sono esposti a un bombardamento di informazioni impressionanti, molto superiore a quello, cioè voglio dire io ho fatto la scuola media in un'epoca in cui non c'era internet, non c'erano i computer e la scuola era il luogo deputato alla trasmissione del sapere, il luogo dove io ricevevo informazioni, poi se avevi una famiglia colta, avevi il vantaggio che magari qualcosina arrivava anche a casa, ma insomma poco più di questo, adesso la scuola è uno dei posti e forse neppure il principale dove i ragazzi ricevono informazioni. Le subiscono le informazioni, noi dobbiamo aiutarle ad organizzarle, a gestirle, a selezionarle, a verificarle, però essendo consapevoli che loro sono esposti a un flusso continuo di informazioni. L'anno scorso, adesso purtroppo non l'ho ritrovato, ho visto delle statistiche che dicevano che all'età di sette anni un bimbo ha già visto una media di un milione e mezzo di spot pubblicitari, ha sentito, insomma, la dice lunga su come vivono, come crescono, anche dove si praticano politiche familiari di contenimento degli spazi destinati alla tv, ultima citazione, e questa è quella che per me è più significativa, devo chiedermi se sto preparando gli studenti per la mia epoca o se li sto preparando per la loro. Io temo che spesso la risposta sia per la mia, non per la loro. Allora, vediamo come si può oggi ragionare sull'uso delle nuove tecnologie. Quando parlo di nuove tecnologie penso in questa sede, almeno essenzialmente a internet, esiste poi tutto ciò che ha a che fare con l'uso dell'iPad o comunque dei tablet, che è un argomento un pochino diverso che mi scuserete qui trascuro, perché avevo un po' paura dei problemi tecnici di collegare l'iPad alla LIM, poi ho un'ora di tempo e quindi devo continuermi. Allora, quando è nata internet, il primo rapporto che abbiamo avuto con internet è stato quello di, guarda che incredibile miniera di informazioni, andiamo e troviamole. Cioè, la prima fruizione di internet è quella della consultazione, che è una fruizione tuttora estremamente valida. È probabilmente l'utilità principale dell'avere il collegamento internet in classe. Io credo poco, sinceramente, mi sbilancio un pochino, la LIM secondo me è un po' inutile. Cioè, questa spesa eccessiva che sosteniamo per poter scrivere elettronicamente, basterebbe un videoproiettore, un collegamento internet, scriviamo al computer che bisogna abbiamo, però c'è questo strumento, questo arriva, è chiarissimo che non è che l'alternativa sarebbe il videoproiettore, l'alternativa sarebbe nulla, quindi ben venga la LIM, però uno degli utilizzi che se ne fa maggiormente, e secondo me bene, è quello appunto di utilizzare internet come strumento di consultazione. Ci si vanno a cercare notizie. Cosa fa l'insegnante? L'insegnante trova egli stesso contenuti sul web, l'insegnante cerca di organizzare preventivamente dei percorsi sul web da proporre ai ragazzi, in modo da guidarli nella opera di consultazione e aiutarli a capire che bisogna, per esempio, mettere in discussione l'attendibilità delle fonti, perché in questo l'uomo grandi passi avanti non l'ha fatto, è sempre disposto a instaurare con la fonte scritta un rapporto di tipo medievale, l'autorità si è scritta e quindi è vera. Invece su internet sappiamo bene che non è affatto vera, non è affatto detto che sia vera, bisogna quantomeno abituarle ad incrociare le informazioni, a cercare delle conferme in altri luoghi. Cosa fanno i ragazzi? Trovano contenuti sul web, e io qui facevo l'esempio di Wikipedia, facevo l'esempio del sito della Treccani, che è un sito bellissimo, dove si trova per intero il vocabolario della lingua italiana, e dove si trovano tutte le enciclopedie, per intero compreso il biografico degli italiani, quindi è una fonte ricchissima di informazioni. Salto per adesso, poi se ci avanza tempo andiamo anche un attimo a vedere come si può usare il sito della Treccani. Quindi, diciamo, primo approccio, quello più vecchio, quello originario di Internet, è un approccio di tipo consultazione. Ce n'è un altro, che è un passo ulteriore, che è quello che viene chiamato in gergo il web 2.0, cioè è fatto che a un certo punto Internet ha smesso di essere fatto solo di portali di informazione, è diventato un luogo dove si poteva interagire. E questa possibilità dell'interazione, secondo me, la dobbiamo e la possiamo sfruttare moltissimo, e in modo anche estremamente produttivo. Mi sono dimenticato di chiedervi, per caso, spero di sì, avete degli strumenti che siano connessi a Internet in questo momento? Qualche telefonino, qualcosina? Perché volevo fare una dimostrazione di siti Internet che però richiedono se è possibile che qualcuno si colleghi in modo che si vada avanti. Allora, dal punto di vista dell'interazione, cosa possono fare gli insegnanti? Ma, per esempio, riperiscono, ci sono tante esercitazioni online, l'interazione è proprio appunto, il ragazzo fa l'esercitazione online, l'insegnante la può trovare, l'insegnante la può preparare. E qui l'esempio principale sono le tantissime piattaforme predisposte apposta per fini educativi, io ne cito tre, ma ce ne sono molte altre, Edmodo, Docebo e Moodle. La differenza è che Moodle non è una piattaforma cloud, cioè va installata su un server e quindi richiede delle competenze tecniche un pochino più avanzate, Edmodo e Docebo, invece basta andare sul sito di Edmodo, il sito di Docebo ci si iscrive e si attiva uno spazio che diventa una sorta di classe virtuale. E sono degli strumenti molto interessanti, hanno, secondo me, dei limiti che sono concettualmente già un pochino superati, perché si tratta con le piattaforme di trasferire sul web l'attività che si fa in classe. Per cui finisce che ci metto delle cose scritte da me che i ragazzi si devono studiare, poi i ragazzi fanno gli esercizi, ma si resta all'interno di un modello didattico di questo tipo. Molto valido. Introduco qui anche quello che secondo me è un elemento di forza, cioè il fatto che l'uso di questi strumenti qua permette di superare la dimensione della classe. Diventa possibile per i ragazzi avere un contatto, magari non immediato, ma insomma con l'insegnante anche quando sono a casa. L'insegnante può, adesso ve lo faccio vedere, far fare l'esercitazione ai ragazzi con i ragazzi che, invece che fare l'esercizio sul libro, il giorno dopo si corregge, hanno la correzione immediatamente e l'insegnante vede in tempo reale quali sono i nuclei problematici e può concentrare la lezione del giorno dopo sulle difficoltà invece che perdere buona parte della lezione a ottenere risposte che magari non ci sono da parte dei ragazzi perché non l'hanno fatta con conseguenze emotive che tutti conoscete, perché poi ci arrabbiamo sul serio, non è che uno reagisce con distacco. Le piattaforme Edu sono molto, però sono un pochino macchinose e Edmodo e Docebo per esempio sono molto belle ma sono chiaramente pensate per una scuola di tipo anglosassone, non mi ricordo quale delle due ma una delle due prevede le valutazioni con le lettere A, B, C, D insomma che la dice lunga su producono una quantità di report infinita molti dei quali veramente non saprei come utilizzare quindi sono anche un pochino ridondanti Moodle è quella più utilizzata per quanto ne so io in Italia si usa per esempio per la formazione a distanza nelle università io non so se mi è mai capitato di fare un corso di quelli in parte online e sono su piattaforme Moodle con questo limite appunto che deve essere adattata si dice customizzata nella provincia di Lucca abbiamo questa grande fortuna che c'è la fondazione della cassa di risparmio che ha messo in piedi una piattaforma basata su Moodle e quindi le scuole della provincia di Lucca più o meno tutte hanno la possibilità di attivare queste classi online nella mia ho provato a dire ma che facciamo si parte e la reazione non è stata proprio di entusiasmo incondizionato per questa cosa una versione un pochino più agile di queste cose è Socrative gli americani dicono Socrative non riesco a pronunciarlo in questo modo quindi lo italianizzo ve lo faccio vedere questo è un ambiente per fare esercitazioni il vantaggio enorme è che i ragazzi non si devono iscrivere e questo permette di aggirare tutti quei problemi di rispetto della privacy di liberatorio eccetera che spesso paralizzano un pochino la nostra attività come funziona questa piattaforma l'insegnante si iscrive è un abbonamento gratuito fa un account io adesso entro con il mio scusate ho sbagliato la pasta eccolo qua non so quanto bene lo vedete allora comunque questa cosa dà la possibilità di creare degli esercizi i quali esercizi poi vengono dati online ai ragazzi e è prevista la sincronia cioè io posso assistere a quello che fanno i ragazzi nel momento in cui loro lo stanno facendo alla fine dell'esercizio SoCreative mi crea un report un foglio Excel in cui mi segnala tutte le risposte che hanno dato i ragazzi tutte le risposte sbagliate ma nella costruzione dell'esercizio io prevedo la risposta e posso prevedere anche un feedback di correzione che ai ragazzi compare dopo che hanno dato la risposta quindi cosa succede ragazzo si collega a SoCreative entra adesso appunto vi chiedevo chi di voi si può collegare facciamo una prova entra dentro si trova delle domande che sono in questo caso assolutamente un'esercitazione come quelle che si trovano sul manuale vede subito se ha sbagliato se non ha sbagliato se ha sbagliato può rifare l'esercizio dopo magari andare a ripassare e ottiene se io l'ho l'ho fatto se io l'ho preparato delle spiegazioni del perché è sbagliata la risposta quindi a mio modo di vedere una tipologia di esercitazione molto più produttiva che non fare l'esercizio tirando via perché tanto non so se è giusto o sbagliato il mattino dopo se ho la testa ascolto le correzioni se non ce l'ho via ma in ogni caso buona parte dell'ora di lezione se ne va in questo modo invece alla fine di questa esercitazione io vedo subito cosa hanno sbagliato nella maggior parte dei casi ragazzi e posso predisporre la lezione per il giorno dopo in modo da intervenire specificamente sugli errori e avere quindi un controllo più fattivo di che cosa sanno allora se voi avete appunto uno smartphone o un tablet che è su internet vi chiederei di andare sul sito di Socrative che è www.socrative.com e cliccare sullo student login vi chiede un numero di stanza questa è la mia stanza 182 994 quindi ci mettete dentro questo numero e poi vi chiede il vostro nome io con i ragazzi sono d'accordo che non mettono il nome ma mettono una sigla che abbiamo concordato per cui io l'identifico ma se qualcuno per un qualunque motivo avesse interesse a entrare a violare la privacy dei ragazzi non avrebbe la più pallida idea di che classe è di quale scuola e chi sono i ragazzi è forse anche eccessiva come cautela perché che gli importa un estraneo di andare a vedere cosa fanno negli esercizi dentro i suoi ragazzi però già che ci sono tanto loro lo trovano divertente in realtà poi diciamo gli avatar che loro si sono inventati cambiano di volta in volta e tutte le volte devo un po' ricostruire chi ha fatto che cosa ma ne vengono fuori delle cose ho avuto il gran ciambellano dei coriandoli l'amante dei pini eccetera eccetera ma insomma la cosa ha un suo un suo perché allora vedete sono entrate due persone che non riesce ad entrare ah certo sì tu sei una delle due persone perché io non ho ancora avviato l'attività io ho una serie di quiz che mi sono preparato prima siamo nell'ambito della grammatica più tradizionale possibile non c'è nessuna domanda su sintagmi di nessun tipo io queste cose le uso principalmente una terza sono terrorizzato dalla prova in balsi e quindi li preparo nel modo più uniforme possibile alle domande che mi aspetto dalla prova in balsi però ecco adesso avvio siamo diventati quattro ospiti avvio il quiz facciamo analisi del periodo terza lascio libertà di tempo nella risposta mentre potrei anche condizionare il tempo che hanno per rispondere e adesso chi è dentro si vede arrivare le domande per prima cosa gli viene chiesto appunto di identificarsi e poi ci sono le domande e io vedo in tempo reale a che punto sono i vari che sono entrati vedete che via via che si identificano al posto di sconosciuto compare il nome e vedrò lo stato di avanzamento ecco ci abbiamo Cristina grazie Cristina ci abbiamo SC siamo diventati sei nel frattempo 182 994 lo vedete lì in alto è questo qua il numero della stanza non la so non la so mi dispiace credo che la squadra normale sia un po' gelosa no comunque siete rapidi a rispondere ecco abbiamo Cristina in testa risposta alla prima domanda e l'ha sbagliata Cristina ha sbagliato vedete che sulla sulla colonna delle risposte corrette si è rimasti a zero ecco sì questo è un elemento di rigidità cioè cosa succede che quando io preparo il questionario devo dire anche qual è la risposta e posso decidere se lasciare come dire la possibilità che loro scrivano qualcosa oppure fare solo domande vero o falso ovviamente mi interessa anche lasciargli la possibilità che loro scrivano qualcosa e quindi devo prevedere nel dare la risposta corretta con la quale poi il computer verificherà confronterà la risposta dei ragazzi devo prevedere le infinite varianti fantasiose che loro possono adottare per rispondere a cosa e non sempre ci riesco per cui può succedere che ti dia errato perché hai messo lo spazio tra la parola e la virgola e questo però ecco è un problema relativo perché i ragazzi imparano abbastanza rapidamente a controllare se la risposta è errata davvero oppure è errata per un fatto puramente formale che se io ci hanno messo la maiuscola o no certo che è un errore se ci va la maiuscola non mettercela però non è un errore dal punto di vista dell'identificazione del tipo di proposizione posso far vedere il report attenzione ma si è convinto che è meglio di passare si e lui mi ha ridetto no la risposta giusta è assolutamente no questo è perché io mi diverto probabilmente vengo accusato in famiglia di imparare troppo dai ragazzi e quindi poi di avere un umorismo che è da scuola media effettivamente può darsi che sia abbastanza vero la seconda perfetto perfetto siamo molto no ma insomma ci abbiamo altri qui ci abbiamo qualcuno che risposta a quattro tre domande non è ancora azzeccata una ma insomma però vedete bene che dipende questa è veramente la rigidità del sistema c'è poco da fare dunque adesso vi chiedo scusa ma vi blocco per andare avanti quindi chiudo l'attività vedete quando chiudo l'attività mi chiede se voglio che mi spedisca all'indirizzo mail col quale mi sono iscritto il report oppure lo voglio scaricato su computer adesso non lo scarico su computer che è della scuola normale comunque vi dico è un foglio excel con evidenziate in rosso tutte le risposte sbagliate quindi anche visivamente molto comodo e appunto poi l'effetto che il vantaggio che ne traggo io è che loro prima di tutto posso controllare che effettivamente facciano e lo controllo in tempo reale perché io gli do un orario all'interno del quale è attivo il programma poi sono libero di fare come voglio perché io lo attivo dal telefonino quindi posso essere dove mi pare qualunque smartphone è in grado di fare questa cosa qui non ho bisogno di stare a casa il professor Tavoni credeva che io fossi bloccato io gliel'ho fatta un po' pesare ma non era vero gliel'ho attivato che ero in piscina e l'ho bloccato che sono uscito dalla piscina quindi insomma però posso poi preparare con cognizione di causa la lezione del giorno dopo mirando sulle difficoltà quindi fare una effettiva attività di recupero se siete d'accordo su Socreative chiuderei è molto semplice realizzare quando ci andate io non so se avete conoscenza di cose più vecchie per fare questionari tipo hot potatoes oppure c'era quello c'era il programmino di quiz faber si chiamava che si scaricava gratuitamente eccetera oggi gli strumenti sono un pochino più potenti è possibile farli online ma insomma il meccanismo è lo stesso e comunque dicevo siamo in una situazione in cui il rapporto con con internet è appunto di tipo interattivo ecco sono uscito e torniamo qua allora come Socreative con delle differenze ci sono anche varie altre cose io ve ne segnalo due infuse learning che è molto bellino e educanon educanon c'è un aneddoto che vi racconto perché mi ha fatto molto piacere sinceramente proprio per quel problema della credibilità agli occhi dei ragazzi mi è arrivata una mail da educanon che mi diceva ah ti sei iscritto ma un pochino che non lo usi come ti possiamo aiutare e io entrando in classe ho chiesto ragazzi scusate ma abbiamo mai usato una cosa che si chiama educanon perché non mi ricordavo minimamente di essermi iscritto educanon e la risposta dei ragazzi che per me è stata molto gratificante è stata prof ma lei si iscrive assolutamente a tutto e ecco secondo me è il vero risultato che ho ottenuto con i ragazzi nell'utilizzare continuamente le tecnologie è proprio questo cioè ho guadagnato credibilità agli occhi di ragazzi che usano internet quotidianamente per ore e ore e ore e questo ha delle ricadute importanti sulla mia funzione di docente non solo sul fatto che così ai loro occhi sono più ganso e gli piaccio di più ha delle ricadute sulla mia funzione docente perché divento credibile anche su cose che loro tradizionalmente considerano un pochino avulse dal contesto scolastico e quindi l'esaltazione è iscrivetevi basta che ci sia scritto chiaramente che è gratis iscrivetevi provate molte volte ci si iscrive a delle robe che non sono assolutamente utilizzabili però ogni tanto capita di trovare cose molto interessanti cosa fanno invece gli studenti dal punto di vista della interazione allora vi ho fatto vedere un esempio di esercizi online loro rispondono gli esercizi io ultimamente li faccio preparare a loro cioè che se io chiedo alla terza di preparare le esercitazioni che poi sottopongo alla seconda il che comporta che cambia la prospettiva dalla quale si pongono bisogna stare attenti perché ogni tanto mettono delle domande che sono sbagliate e rischia di creare un po' di cortocircuito con i ragazzi di seconda che poi vengono un po' arrabbiati con me perché gli chiedo cose che non tornano con risposte sbagliate eccetera ma insomma con un minimo di controllo si riesce a fare questo lavoro che invece che rispondere alle domande formulare le domande quindi cercare di ampliare la propria riflessione metalinguistica qui vi sottopongo due altri esempi nel primo vi anticipo un ulteriore passaggio che invece è più per la fase successiva ve lo faccio vedere perché secondo me è molto interessante cioè cosa faccio io con i ragazzi io preparo delle lezioni online metto dei video online mi sono accorto che c'è una notevole difficoltà da parte dei ragazzi a seguire la lezione nonostante sia un insieme di scritto e parlato poi vi spiego la genesi di tutta di tutta questa cosa ho trovato questo bellissimo sito che si chiama www.bloobr.tv che mi permette di prendere un qualunque video da youtube e intervallarlo con delle domande che quindi diventano non un'esercitazione ma una guida alla lettura all'ascolto cioè quella cosa che quando facciamo in classe facciamo normalmente perché li facciamo leggere e blocchiamo in continuazione diciamo ma insomma quelle domande di verifica della comprensione ma quando loro lo fanno a casa manca questo momento qua invece questo sito come anche altri nella fattispecie educanon permette di sovrapporre al video delle domande che bloccano fra l'altro con una grafica che è molto simile a quella dei giochi televisivi come adesso vi faccio vedere con non vi dico quale divertimento da parte dei ragazzi allora qui ho caricato la mia video lezione sul pronome relativo grammatica super tradizionale c'è l'audio qui non si sente ma c'è l'audio che spiega e il video scorre su una mappa concettuale che è articolata ma questo li ho abituati adesso vi faccio vedere in due parti cosa e come cioè come si deve operare per identificare l'audio ovviamente aggiunge qualcosa rispetto allo scritto adesso lo vedete scorrere un pochino lentamente perché l'audio appunto è un pochino più lungo del tempo di lettura ma come vedrete fra poco fra precisamente due secondi un secondo zero secondi ecco il video si interrompe e loro hanno venti secondi per rispondere a una domanda che è di attento hai capito che cosa abbiamo detto fino ad adesso e in questo modo ovviamente è possibile scandire però vedete la grafica come è curata e fatta bene guardate è facilissimo preparare una cosa del genere richiede un bel po' di tempo fare la video lezione qui è come dire il lato debole di tutta la cosa è che fare questa roba qui richiede una montagna di tempo però poi i risultati dal punto di vista non so dell'apprendimento certamente della partecipazione dell'attenzione dei ragazzi sono notevoli dell'apprendimento non mi sbilancio perché qui ho lasciato passare il tempo della risposta introduco il concetto di antecedente appunto fatto che il pronome relativo deittico fa un pochino fatica ad essere allora anche qui la cosa è estremamente lo blocco perché sforiamo un po' i tempi la cosa è estremamente intuitiva facile si tratta proprio di inserire uno si iscrive è gratis ci si iscrive poi si dice crea un nuovo questionario ti apre una mascherina nella quale devi inserire l'indirizzo del video youtube e poi è possibile scorrere il video c'è proprio una barra di scorrimento lo blocchi dove vuoi e ci inserisci la domanda è una cosa il video si la parte è un pochino più complicatina dunque il video è uno screencast cioè io ho fatto una mappa concettuale con qualunque programma per la mappa concettuale poi l'ho caricata su Prezi perché Prezi mi permette di visualizzare le singole sezioni e poi crea movimento poi ho messo Prezi sullo schermo del computer ho fatto una registrazione audio video dal computer a questa tecnica sono arrivato dopo un'infinità di tentativi molti dei quali falliti perché venivano immagini sfocate eccetera questo funziona abbastanza e successivamente ho caricato il video tendenzialmente preferisco caricarli su un sito che si chiama NOMIA K-N-O-W-M-I-A che è fatto apposta per docenti perché il problema di youtube sono i suggerimenti ulteriori dopo che tu hai fatto vedere un video che possono essere un po' imbarazzanti non so se vi è mai capitato esistono esistono anche adesso non mi safe tube una cosa del genere esistono dei siti che ti permettono di pulire tutto il contorno del video di youtube per cui si vede tutto bianco solo l'immagine di youtube però si possono aggirare e sinceramente ogni tanto mi sono trovato in situazioni che insomma scuola media non è tanto il caso io sono più scandalizzato dalle cose di violenza che dalle cose che hanno a che fare con corpi nudi eccetera e per me le cose veramente imbarazzanti sono appunto la facilità con cui si capita su video di fucilazioni impiccagioni torture e tutto quanto quindi preferisco evitare quando carico su questo sito Nomia che è gratis e mi permette di caricare quel che voglio questo problema non ce l'ho perché al limite suggerisce altre video lezioni di altri insegnanti quasi tutte in inglese quindi al di fuori degli interessi dei nostri ragazzi la seconda cosa che vi faccio vedere è molto simile a Socrative con la differenza che invece questo è fatto apposta per fare lezioni in classe questo è un esito un pochino inaspettato scusate ci riprovo perché qui doveva mandarmi no vale che mi scriva allora dovrebbe essere sempre ale allora qui il meccanismo è lo stesso di Socrative con la differenza che bisogna essere compresenti perché perché sullo schermo vengono proiettate le domande se voi entrate con i vostri dispositivi sempre con la logica della del numero che identifica la classe quindi non c'è bisogno di scriversi sul vostro dispositivo compare la tastierina per dare le risposte però la cosa carina è che poi si fa una specie di gara a chi risponde più correttamente più velocemente quindi diventa un gioco l'esercitazione io del gioco non ho assolutamente paura anzi lo apprezzo moltissimo sono convintissimo che abbia una valenza educativa fondamentale prima mi veniva chiesto come mai ho questo libro ce l'ho perché ho degli interessi un po' perversi che mi portano a leggere un po' di tutto questo è un libro sull'epica del marketing di contenuto però anche perché avevo trovato qui e non sapevo più come ricostruire una citazione che è di Marshall McLuhan e quindi non c'è nessun bisogno di andare a cercare qui ma io non mi ricordavo che era di McLuhan che dice ve la traduco un po' alla buona dice che chiunque cerchi di fare una distinzione tra educazione e intrattenimento non sa nulla né di educazione né di intrattenimento e secondo me è una cosa profondamente vera e è tanto più vera nella cultura italiana dove siamo abituati a una visione un pochino sofferta della cultura cioè non c'è vera cultura senza la sofferenza delle sudate carte e tutta questa tradizione retorica io ho fatto un dottorato di ricerca sul poema eroicomico vi lascio immaginare quanto comico nel settecento e tutti sottolineavano che scrivevano nelle pause del loro ufficio gravoso in cui erano impegnati seriamente cioè quello era il diversivo ma è sempre un'alternativa il divertimento e l'apprendimento e secondo me è una balla non è affatto vero anzi molti di noi hanno sperimentato che quando si sono divertiti a imparare hanno imparato molto meglio e io credo che si possa anche ottenere dal professor Tavoni la confessione che si è divertito a fare tutto il percorso di studi che ha fatto per arrivare ad essere il professor Tavoni l'avesse fatto contro voglia annoiandosi come noi pretenderemmo come noi italiani pretenderemmo che la cultura fosse di difficile accesso elitare eccetera secondo me forse non avremmo avuto la lezione che abbiamo avuto poco fa dal professor Tavoni secondo me fra l'altro nella grammatica del professor Tavoni questa cosa si sente cioè il gusto dell'apprendimento non la noia dell'apprendimento quindi che si giochi a scuola o perché no anzi molto bene ovviamente cercando di non cedere alla tendenza dei nostri ragazzi a trasformare tutto quanto in una cosa per la quale almeno in Pisano c'è un termine molto preciso non lo dico per come dire pudore ma ci siamo capiti allora qui avvio l'esercitazione che ho preparato dunque mi scuserete può darsi che ci siano delle domande la cui risposta è sbagliata perché l'ho fatta ieri sera per gioco con un indirezionale col professore che mi aveva mandato i suoi schemi e sotteneva che non era possibile fare una cosa realmente sovrapposta quindi questa è un'esercitazione in cui ci sono cinque domande e si parla di sintagma è la prima volta che ne parlo anche qua dunque se volete partecipare all'esercitazione andate su kahoot.it e inserite il numero 6482 il ping è 6482 vi chiedo un nome metteteci quello che volete ovviamente via via che entrate dovrebbe comparire ecco abbiamo Sonia vedete abbiamo solo Sonia adesso mi metto a fare il banditore d'asta c'è qualcun altro abbiamo anche Cree che sospetto essere Cristina ma Sonia Cree è chiuso dai gli ultimi due biglietti parto ci fermiamo qua allora 6482 qui la situazione in classe ovviamente se avete la fortuna di insegnare in una scuola io dico fortuna ma so che per molti non lo è di insegnare in una scuola in cui ci sono gli iPad a Lucca c'è una scuola con gli iPad e li sono arrivati un po' tra capo e collo non sono per niente felici di averli perché? perché c'è un problema di prima prepararsi ad utilizzarli ovviamente solo lo strumento è un pasticcio se uno pensa di usare i libri tradizionali con l'iPad impazzisce però ecco immaginatevi una situazione in cui avete un laboratorio di informatica come so che c'è in una scuola di Viareggio dove insegna una nostra collega dove insegnavo prima io oppure una classe con la possibilità di avere tre o quattro computer è facile costruirci sopra delle gare con l'effetto di una maggiore attenzione da parte dei ragazzi perché quando si è in competizione ci si distrae un po' meno e si parte arrivano le domande adesso voi vedete la domanda la leggete tutti qui vi dà adesso le risposte possibili e voi sul dispositivo avete i quattro colori e dovete rispondere abbiamo una risposta per adesso guardate che c'è il tempo che scorre ho dato 20 secondi poi sono diventato più cattivello abbiamo solo due persone che hanno risposto hanno risposto quella che io credo essere la risposta giusta ma un po' mi tremo nei volsi ti ha detto che hai sbagliato però non lo segnala come errore probabilmente ti ha preso tra i due giusti andiamo ecco guardate abbiamo Sara, Paola e Cri risultano non aver risposto Joe e Sonia Joe è stata la più veloce quindi dopo il scontato che sia lei ma se è lui mi chiedo scusa e quindi ha il punteggio maggiore e poi si va avanti qui ho dato se non sbaglio 10 secondi è sparito qualcuno 10 secondi scaduti Sonia è stata velocissima 1350 punti è stato un lampo Cri questa volta c'è riuscita per 600 punti qui c'era la spiegazione del professore ma non l'avete avuta quindi affari vostri sì il concetto di subordinabilità me lo sono letteralmente inventato per analogia con coordinabilità ma non c'entra assolutamente nulla vabbè qui ci avete 5 secondi ancora adesso ci fermiamo perché ovviamente sto andando lungo qui siamo più sulla grammatica tradizionale questa l'ho fatta perché io tendo un po' a trascurare la distinzione delle proposizioni coordinate quando faccio lezione la trovo di difficile utilizzo da parte dei ragazzi e mi sembra di caricarli di nozioni che rischiano di essere facilmente dimenticate però mi chiedo se faccio bene allora vi chiedo scusa blocco questa cosa qui lo chiudo e farei l'ultimo passaggio che è dopo interazione arriviamo alla creazione creazione è un tema ovviamente molto impegnativo io faccio riferimento al fatto non che sono degli artisti ma al fatto che possono produrre e che noi possiamo produrre noi possiamo preparare le lezioni vi ho fatto vedere un esempio di mappa concettuale con spiegazione audio adesso non ve ne faccio vedere altri perché qui l'idea diciamo questa cosa di fare le lezioni nasce dal fatto che ho degli alunni BES di varia natura in classe quindi DSA ma non solo DSA in particolare ho una situazione di una difficoltà di controllo del movimento oculare per cui l'alunno in questione non può leggere e il rischio di tagliarlo fuori se uno non li mette tutto nel formato audio è gigantesco già così è piuttosto penalizzante quindi è finito che tutte le cose che faccio in classe le traduco all'inizio facevo file mp3 solo per l'alunno in questione poi gli trasmettevo via mail in realtà avevamo uno spazio su Dropbox insieme poi ho deciso che però questa cosa la faceva sentire l'alunno molto più diverso di quanto era necessario che si sentisse dagli altri quindi mi sono messo mi sono creato il mio blog ho messo le video audio lezioni a disposizione di tutti quanti e questo ha avuto degli effetti molto positivi nell'integrazione questa è produzione creazione cioè io produco i contenuti non vado più a cercarli non faccio semplicemente un'azione di tipo interattivo produco il contenuto internet mi permette di pubblicarlo tecnologia distribuita di cui parlavamo prima è diventato estremamente possibile mettere su internet non solo prendere ma mettere io ci ho messo fino ad adesso tantissima roba di nuovo con un impegno notevole non riesco a stare al passo cioè di solito faccio la lezione e poi tipo la settimana dopo arrivo con la video lezione gioco un pochino sulle ripetute assenze del soggetto in questione quindi magari sono anche un pochino cinico però gioco forza la volta che ho da correggere un pacco di temi è ovvio che devo dare la precedenza a quello ma la soddisfazione è notevole proprio la soddisfazione anche nella qualità del rapporto con i ragazzi che è nettamente migliorata da quando loro vedono e vedono anche le famiglie perché un'altra differenza tra il blog e la piattaforma è che il blog è accessibile a tutti e le famiglie possono vedere cosa stai facendo e le famiglie si rendono conto che il lavoro dell'insegnante non è proprio un lavoro da fangulloni distratti e annoiati come la vulgata vorrebbe vado l'ultimo passo anche gli alunni creano contenuti adesso vi faccio vedere una cosa e qui mi fermo perché il tempo è questo questo è un video che i ragazzi hanno elaborato in classe quindi il risultato di un vero e proprio brainstorming di spiegazione del percorso di analisi del periodo che hanno fatto fino a questo punto non è completo perché non l'abbiamo ancora finito ci hanno lavorato in classe mentre io facevo altre cose che se io mandavo a gruppettini perché gli ho divisi in gruppi hanno dovuto elaborare la parte che gli competeva poi andavano e la realizzavano usando il computer della Limeo nel frattempo se io leggevo l'amico ritrovato in un altro angolo della classe e quindi era possibile proprio fare una didattica abbastanza personalizzata in questo senso creando opportunamente i gruppi eccetera il risultato è mica tanto bello ma secondo me insomma io sono molto soddisfatto perché mi sembra tutt'altro che scontato come risultato qui lo strumento che ho usato è Wideo bellissimo strumento per fare delle animazioni e anche qua ci sarebbe musichetta di sottofondo molto ritmata quel generalmente l'ho voluto io perché insomma avete in mente Foscolo e gli incipiti di Foscolo qui ci sarebbe musica un po' elettronica ma purtroppo l'elaborazione è loro a me sembra molto interessante questo fatto che si sono dovuti sforzare di esplicitare che cosa cioè non semplicemente saper riconoscere che può essere un esercizio piuttosto meccanico ma provare a spiegare loro con strumenti che possono essere certamente l'utilizzo del manuale ma magari adattando la spiegazione alla situazione del video poi vedete si sono divertiti hanno cambiato tutti gli sfondi c'è un gran pasticcio per certi versi però questa cosa non so perché ma a loro piace tantissimo Babbo Natale che scappa in seguito tempi un po' qui non hanno resistito eccola il con cui sbagliato sostituito anche questo carinissimo secondo me grazie a tutti Grazie. 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 Molto amato. Abbiamo fatto tardi fra l'uno e l'altro, quindi se volete o dovete andare benissimo, se volete rapidamente dire qualcosa l'uno o l'altro di noi, noi siamo qua. Grazie. 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 del mondo con suoni di ambienti naturali di tutto il mondo, che è una cosa di una bellezza che vi invito a provare, l'ho linkata sul blog, e uno va sul Brasile, c'è un planisfero, va sul Brasile, c'è l'iconcina, fa clic e ti fa sentire la scimmia della foresta amazzonica, ed è un modo di avvicinare i ragazzi alla geografia, per quella cosa per cui può aver senso insegnare la geografia, non le province, le regioni, tutte a memoria come facevamo noi, ma conoscenza del mondo, capacità di orientarsi al mondo, curiosità per il mondo, io credo che sarebbe un grande risultato di un insegnante di scuola media e geografia se ottenessi che i ragazzi vanno via avendo voglia di viaggiare, e magari si organizzano anche per farlo e quindi per ampliare i propri orizzonti. Lo stesso vale per la didattica dell'italiano, infatti la precisazione che ha fatto il professor Tavoni all'inizio, cioè è vero, io vi ho fatto vedere delle esercitazioni che sono di grammatica tradizionale, però il problema non è il contenuto dell'esercitazione, perché quello poi ognuno lo fa sulla base del proprio stile di insegnamento, il problema è l'idea che esistono questi strumenti e che questi strumenti possono avere un impatto tale sulla didattica da cambiarla profondamente. Per esempio, permettendo di dare una risposta a quella domanda che secondo me è abbastanza senza risposta, cioè cosa vuol dire personalizzazione? Perché un conto è in classe, ma se io lo faccio a casa, che se io ho l'esercitazione su Socrative, la posso fare ai due o tre allunni che hanno bisogno di un'attività di recupero, cosa che in classe, con una classe di 28 elementi scalmanati, lo sapete tutti, non è certo una cosa tanto fattibile. E così via, appunto, integrazione e la video-audio lezione permette di fare un supporto all'attività didattica che va incontro al bisogno dell'alunno DSA con la certificazione di dislessia, scusatemi, ma anche dell'alunno BESS con una situazione di disagio per cui in casa nessuno gli spiega niente, perché magari la famiglia non ce l'ha, sono situazioni che sono, ahimè, molto frequenti, e quindi dà una risposta al problema della integrazione dei bisogni educativi speciali. Le mappe concettuali, uno dei punti di partenza è nella legge 170, alla quale fa riferimento, alla quale rinvia anche la circolare sui BESS, si parla delle mappe concettuali come strumento compensativo, che a me una cosa che colpisce è il fatto, poi mi zittisco, è il fatto che quando parliamo di queste situazioni qui è facile che si finisca al problema di come gli si fa fare la verifica, e gli strumenti compensativi e dispensativi sono compensazione e dispensa della verifica, non del momento della didattica, cioè appunto ci hanno più tempo, poi pensiamo subito tutti quanti all'esame, allora l'esame come fa a fare la prova in bassi, bisogna preparare la prova speciale oppure no, eccetera, eccetera, ma di didattica del bisogno educativo speciale non si parla minimamente. Nel momento in cui mi sono posto il problema di, ma sì, d'accordo, gli faccio la verifica col carattere grande, che mi sembra anche un po' una sciocchezza, se devo essere sincero, ma lo dicono tutti per cui è sicuramente valida, non so se avete visto che adesso ci sono i libri col carattere DSA, lo chiamano così, sicuramente vero. Cosa faccio per insegnare, per ottenere che non ci sia un effettivo danno nel percorso didattico del ragazzo, perché la verifica è il minore dei problemi, tant'è vero che tutti quanti abbiamo esperienza del fatto che prima che ci fosse la normativa sui DSA, le situazioni di disagio le portavamo avanti allo stesso modo. Non ci hanno insegnato nulla da questo punto di vista, mentre invece sarebbe molto interessante se da una competenza specialistica che si sta ponendo adesso il problema di comunicare con noi corpo insegnante, per cui ci viene spiegato con un pochino più di precisione quali sono le problematiche della dislessia, della disgrafia, della discalculia, il fatto che la discalculia da sola non si trova mai. Quindi abbiamo un pochino più idea di che cos'è il problema. Ecco, da questa maggiore conoscenza del problema, è utile cercare di desumere una modalità didattica che permetta di, nei limiti del possibile, compensare il disagio nel vero senso della parola, che non è creare il salvacondotto e accettare l'inerzia che si crea nella scuola, per cui quando c'è una certificazione si va avanti puliti senza nessun problema. Magari lo posso anche bocciare, l'alunno DSA, perché alle volte diventa una bella scusa, fra l'altro, quella del DSA. Però prima devo essermi posto il problema di aiutarla ad avere un percorso scolastico il più possibile regolare. E allora gli strumenti qui diventano essenziali e diventa importantissimo il fatto di ribaltare il rapporto tecnologia-attività didattica, per cui la tecnologia non è lo scopo finale dell'attività didattica, ma è semmai un momento, nemmeno il punto di partenza, un momento di passaggio all'interno della mia progettazione delle attività didattiche. Appunto, reperisco e faccio. Ci metto dentro il fatto che fanno anche loro. E questo mi sembra l'aspetto più innovativo e più interessante. Io, adesso, sto qui. Allora, ci salutiamo e buon lavoro a tutti. Grazie. 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 Grazie.